Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi, 28 maggio. Vediamo subito quali sono i temi di giornata. Ovviamente il tema fondamentale è questo maxipiano UE, così l'ha subito soprannominato il Corriere della Sera. Che cosa è successo? È successo che la Commissione europea con la von der Leyen ha proposto un piano da 750 miliardi di euro e di questi 750 miliardi di euro ne dovrebbe arrivare una buona parte, cioè 172, proprio all'Italia. Quello che conta in soldoni per chi è come noi un po' contadino, nel senso che vuole le robe serie, non le minchiate che scrivono i giornali, 81 di questi 750 miliardi arriverebbero all'Italia così, a fondo perduto, cioè ci arrivano e non li dobbiamo restituire. Questi sono i fatti. Sui fatti sì, ovviamente ci sono vari giudizi. Andiamo a vedere i giornali che cosa dicono. Forte, Francesco Forte, uno degli economisti che stimo di più oggi, di origine socialista, ma veramente un uomo di un'intelligenza straordinaria, sul giornale dice accettiamo quei soldi. Quindi il giornale, che comunque aveva una posizione abbastanza anche aperturista sul MES, continua su questa strada. Turani, quotidiano nazionale. La sfida sarà adesso non tanto accettare non accettare dei soldi, perché a caval donato, direbbe qualcuno, non si guarda in bocca, ma spenderli bene, perché noi abbiamo molti soldi che arrivano nell'Unione Europea e in realtà nel passato abbiamo dimostrato di saperli spendere poco e male. Il Sole e Repubblica pongono un tema che in una certa misura pongono anche gli altri su quali dobbiamo riflettere e c'è che questi quattrini di fatto, siccome sono sul bilancio della Commissione Europea, arriveranno soltanto nel 2021, cioè soltanto quando alcuni dei grandi emergenze dovrebbero essere non superate certamente, ma comunque non arrivano così velocemente. Anche se mi sembra di aver letto sul Sole, guardando con attenzione, che una parte di questi, soltanto una parte, ovviamente potrebbe arrivare a essere anticipata al bilancio del 2020, cioè in fine d'anno. Cottarelli dice, passo importante in linea con le proposte dei quattro paesi che contano in Europa, che sarebbero a questo punto Germania e Francia in primis, Italia e Spagna in secundis, perché in realtà la maggior parte di questi soldi arriverebbero 81 miliardi all'Italia in fondo perduto, 77 alla Spagna e l'ultima che godrebbe, terza mi sembra la Polonia, l'ultima che godrebbe di questi aiuti sarebbe la Germania. Questo fa sì che, come si chiama, Carretta, che è più entusiasta sul foglio di questa cosa, dice alcune cose molto interessanti che bisognerà verificare nel futuro, cioè che non sono stati e non verranno finanziati con i soldi nazionali, che è un po' il tema che poneva la verità, perché dice in realtà non è che noi diamo dei soldi al bilancio europeo che il bilancio europeo ce li restituisce, anche se in maniera disuguale rispetto alle nostre contribuzioni, che è la solita critica che si è fatta sul MES e non solo. Ma il punto fondamentale è che questi soldi in realtà faranno sì che la Commissione europea si indebiterà per 750 miliardi, secondo me per 500, ho letto in alcuni giornali. Comunque diciamo che si indebita la Commissione europea, che fa un grandissimo bond, cioè una grandissima, è sostanzialmente l'euro bond che noi chiedevamo, con questi debiti in realtà finanzi a fondo perduto e prestiti ai paesi più colpiti dalla Covid. E in realtà, dice Carretta, che a pagare il conto sarà soprattutto la Germania. Devo dire che quando ti arrivano 81 miliardi, poi sono pochi, sono tanti, su un debito che fa l'Europa e tu puoi spenderteli un po' come cavolo ti pare, insomma adesso io tutte queste grida manzoniane contro questo preside europeo che in realtà è a fondo perduto, non le vedo per quale motivo fare. Anche se, a ragione da un punto di vista comunicativo, oggi Libero con, chi è che lo scrive? Con Carioti, Libero e Carioti scrivono una cosa molto semplice. Ma ragazzi, ma noi ci ricordiamo che solo una settimana fa Di Maio, ministro degli Esti, si ha detto dovremmo avere almeno un fondo da 1.500, 2.000 miliardi. E gentiloni, deve essere un fondo di almeno 1.000 miliardi ma subito. E poi, chi altro l'aveva detto? Il Parlamento europeo deve essere un fondo da 1.500 miliardi. In realtà è la metà di quello che dicevano e oggi godono come dei ricci. Io direi che bisogna essere soddisfatti di questa iniziativa europea, se verrà confermata, perché vi ricordo che c'è l'ostilità di Austria, Svezia, cioè ci sono un sacco di paesi, non neanche una accetta, c'è un sacco di paesi europei che sono contrari a questa iniziativa europea, quindi dovremo vedere tra l'annuncio e la realtà cosa arriverà. Devo dire la verità che sulla carta uno dice ti arrivano 81 miliardi di qua, 36 miliardi di là, 100 miliardi di là, insomma, in una certa consistenza e presenza europea mi sembra che in questo momento ci sia. Soldi a fondo perduto. Poi andremo a vedere se nel dettaglio, come spesso avviene, si celano i diavoli. Bisogna non essere ideologici dal mio punto di vista su queste cose, anche perché l'emergenza economica che sta toccando e che toccherà l'Italia è di proporzioni inaudite. Nel frattempo noi abbiamo i rappresentanti, io è una di quelle cose, è come i moralisti, gli sceriffi sono come i moralisti, c'è sempre uno più moralista di te che ti farà le pulci. E la stessa cosa è sugli sceriffi, perché è grottesca la battaglia tra il sindaco Sala e il presidente della regione Sarda, Solinas, perché, come sapete, i milanesi amano molto, oltre alla Liguria, posto straordinario, oltre a Forte dei Marmi, col sindaco, quello che non vi fa giocare a tennis, anche la Sardegna, prendono il voletto e vanno in Sardegna. Quindi se gli tocchi queste tre zone, Liguria, Sardegna e Forte dei Marmi, i milanesi impazziscono. Forte dei Marmi non lo toccheremo mai più, perché i milanesi importanti sono impazziti, perché il sindaco ha iniziato a sbraitare. La Liguria ha il presidente di una regione che si chiama Toti, che è una delle poche persone dotate di senno in questa fase, in cui dice, ragazzi, ma che state a dire? Qua apriamo perché il 20% di questa regione è fatta da turismo e mi sembra al di fuori. E poi c'è la Sardegna, dove c'è un presidente della regione leghista, unionista, leghista, questo Solinas, che vuole questa... Si è inventato una di quelle cose che... Non dire che è una minchiata, è dire poco. E cioè il passaporto sanitario, che peraltro oggi, in un'intervista al messaggero, ribadisce un altro presidente isolano, musumeci, sempre del centro-destra. Quindi cosa fa Sala? Sala da una parte chiude gli aperitivi, dall'altra dice che non si va in Sardegna perché vogliono il passaporto sanitario, non capendo che sono tutti e due figli della stessa identica cultura chiusurista e di incapacità di affrontare il rischio del virus. Cioè Sala fa il fenomeno contro i sardi, poi in casa cosa fa? Unica città al mondo, oggi, vieta l'asporto. Non sarà l'unica città al mondo, ce ne saranno delle altre, ma comunque, insomma, prima apre gli aperitivi e poi li chiude. Allora voi mi dovete spiegare la logica per la quale tu chiudi gli aperitivi e dici che c'è un problema e che è un disastro questo virus e che i ragazzi non possono prendere gli aperitivi, però vuoi che tutti i tuoi ragazzi che non prendono gli aperitivi a Milano possono andare da Solinas in Sardegna a farsi gli aperitivi. Ma insomma, mi spiegate la logica? Io sono contro la logica di tutti e due, sia quella di Sala, sia quella di Solinas, ma il fatto che i due moralisti si azzecchino l'uno con l'altro mi fa godere come un riccio e mi dà anche il senso che la nostra classe dirigente ha perso il senno, proprio totalmente perso il senno. Comunque oggi Corriere della Sera ci racconta che dice Sala io non vado in vacanza con i patentini sanitari e l'altro gli risponde zitto, pensa ai tuoi aperitivi, quelli che prendeva quando diceva che non c'era il virus Sala e quelli che oggi non fa prendere i cittadini milanesi perché sostiene che c'è ancora. Una roba che veramente qualcuno mi dirà a me gli aperitivi, poi se è chiaro, non me ne fotte nulla, io gli aperitivi non li vado a prendere, rispetto tutte le leggi, non me ne frega assolutamente nulla, non mi voglio avvicinare, la mia distanza sociale sarà massima, ma trovo ridicolo come si è dimostrato che qua facciamo come i moralisti, chi è più moralista dell'altro, Solinas, Sala, tutto quanto in virtù di un timore che oggi i dati ci dicono, i titoli dei giornali, virus tornato ad aumentare, i morti, i contagi, spiega il fatto. Poi vado a vedere le cose, me ne vado a vedere su una notiziola che fa tutti i giorni il foglio, i contagi sono aumentati, è vero, da 398 a 584, cioè noi chiudiamo l'Italia perché ci sono 584 contagi. Ogni giorno purtroppo ci sono altrettanti contagi di AIDS, ci sono altrettanti contagi che non sono contagiosi, ovviamente ci sono altri contagi per altre malattie virali, ci sono purtroppo altrettanti casi di tumori che vengono diagnosticati, oggi un po' meno perché gli ospedali pensano soltanto a questo, noi con 588 contagi, noi diciamo che stanno aumentando i contagi e che l'Italia deve essere tutta chiusa. Tra l'altro, oggi nota il foglio, non un giornale aperturista come sono io, che i contagi aumentano perché hanno aumentato i tamponi, cioè quindi dovete sempre considerare che i contagi nascono anche da un errore statistico, più tamponi fai e più positivi ci sono. Ma poi il tema dei positivi e dei contagiati vale zero, perché anche in influenza ci si contagia, il problema è la gravità della malattia che sta scendendo. Ieri sono scese le terapie intensive e sono arrivate a 505. Quindi il tema non è i contagi, ma è il decorso della malattia che non è più quello dell'inizio di marzo, non è più quel contagio della malattia mortale, è molto meno virulenta rispetto a quanto fosse nel passato. Come dicono gli scienziati, non io. Poi ritorniamo sulle vicende, e beh, stupendo oggi, perché dovete mettere a paragone il grande, straordinario, McKinsey, che vive a Londra, capo della Task Force, Colau, l'uomo più pettinato, il manager più pettinato della storia della Repubblica Italiana, l'uomo che ha guidato Vodafone, il milionario, perché se li ha meritato tutti, riesce oggi, in un'intervista straordinaria di due pagine della Repubblica, a dire così diventeremo un paese per giovani. Tra l'altro non nascono, e tra l'altro i tuoi figli con te giustamente stanno a Londra, perché quello fosse un paese per giovani, ma comunque così diventeremo un paese per giovani. La prima cosa per far diventare un paese per giovani è prendere se stessi e andare in un altro paese, pensa giustamente Colau. Cento proposte che daremo a giugno, e poi il governo sarà a metterle a terra. Questa cosa qua, il metterle a terra, te lo dicono quelli di McKinsey, quelli di Benicuno. Cazzo, metterle a terra! La parola più orrenda che è l'unica cosa, perché arriva dall'inglese, e loro metterle a terra. Loro fanno le proposte, poi ci sarà qualcuno che le metterà a terra. Fantastico, mettere a terra. E cioè, dei manager meckinziani che girano per il mondo, ci sbomballano le palle. I soldi, toglieteli alle grandi multinazionali, non prendete per il culo per favore i governi. Non è possibile portare la pubblica amministrazione sul cloud. Non è possibile portare la pubblica amministrazione sul cloud, ma possiamo semplificarla. E noi abbiamo bisogno di colao, perché ci dicono, a parte il fatto che c'è una gran parte della pubblica amministrazione che sul cloud ci è andata, perché tutti noi siamo sul cloud. Dropbox è cloud, OneDrive è cloud, vorrei... Toc, toc! Ci sono tante pubbliche amministrazioni che usano programmi per parlarsi sul cloud. Ma comunque, non è possibile portarla sul cloud. Però sapete che cosa possiamo fare? Dice Colèo, fare delle semplificazioni. Complimenti! Una buona idea! E poi lui non vuole il big state, vuole il friendly state. Vabbè. Allora, questo è colao, perfetto, straordinario. Allora, io vi dico una cosa. Oggi fate questo esercizio. Prendete colao da una parte e poi prendete l'intervista fatta a Pasqualino Monti. E voi dite, ma chi cazzo è Pasqualino Monti? Pasqualino Monti è quello che ha reso un porto, quello di Cività Vecchia, che era un porto di serie B, il più importante porto croceristico del Mediterraneo. Poi è stato sbattuto a Palermo, perché pensavano di peggiorare la sua vita, e a Palermo ha reso il front, la parte davanti della città, non solo quella di Palermo, straordinaria, perché ha investito un sacco di milioni che gli erano stati dati dalla Commissione Europea. Pasqualino Monti è uno che dice la politica ha trasmesso l'equazione appalti uguali tangenti e quindi testa ancora sul generico. Poi leggete Pasqualino Monti e vi dice ma lo sapete che per fare una gara io devo fare 20, per sbloccare un'opera io devo avere 23 vie libere diverse? Allora tu da una parte c'hai Colao McKinsey, milionario, che vive a Londra, che ci spiega perché diventerebbe un paese per giovani, dall'altra c'hai Pasqualino Monti, 240 mila euro di stipendio massimo perché nella pubblica amministrazione prima Civitavecchia poi Palermo per carità città bellissime molto più belle di Londra che si fa un culo così e che ci spiega come funzionano gli appalti voi a chi fidereste questo paese? A Colao o a Pasqualino Monti? Io non ho dubbi io tra i due lo affiderei a Pasqualino Monti all'intervista che oggi gli ha realizzato stupenda Luca Telese leggetevela perché vedete uno che risolve i fatti e un altro che spiega agli altri come risolverli io tra chi li risolve e chi spiega agli altri magari dicendo mettete a terra il facility play il friendly state eccetera io preferisco quello che i problemi gli risolve davvero le task force secondo me Pasqualino Monti quando va a fare le sue cose non c'ha task force c'è i suoi assistenti i suoi dirigenti insomma le persone normali con cui si lavora autostrade ieri doveva essere in rete l'azione ma ancora non ho deciso nulla ve la dico subito ce lo spiega Perrone oggi sul sole la soluzione sarà quella di far scendere i Benetton che controllano l'autostrada dell'88% sotto il 50% e far entrare dentro la cassa depositi e prestiti F2I insomma la soluzione per risolvere il problema Benetton qual è? lasciare l'azienda e Benetton lasciare la concessione dell'autostrade ma far entrare il pubblico lo Stato nelle autostrade e così guardate la sintesi finale quale sarà? che fra dieci anni noi diremo che i Benetton comanderanno comunque con una minoranza all'interno di autostrade abbiamo risolto i problemi? boh forse non lo so fantastico poi sulle intercettazioni questo ve lo devo dire perché il Libero continua giustamente a fare il suo lavoro con Amadori beh oggi vediamo una cosa fantastica perché si è detto quel genio di travaglio ma non riesco a capire che problema ci sia se un membro del CSM ex membro del CSM come Palamara dica che vuole attaccare Salvini insomma sono su idee personali non c'è non è lui il magistrato che giudica eh no 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 oggi c'è l'intercettazione cioè l'intercettazione funziona che ve la leggo bene c'è un sms di Legnini vicepresidente del CSM a Palamara e poi c'è un sms di Palamara a Legnini dopo il caso Diciotti e si dicono carissimo Luigi ti chiamerà e scrive scrive come si dice Palamara a patronaggio scrive Palamara a patronaggio il magistrato che vuole indagare Salvini che lo ha indagato per sequestro di persone Palamara cosa scrive? a patronaggio carissimo Luigi ti chiamerà anche Legnini siamo tutti con te e poi sapete che gli risponde padronaggio grazie Luca Palamara mi ha già chiamato Legnini e sono molto orgoglioso del fatto che mi ha chiamato Legnini cioè spieghiamoci bene il magistrato che indaga contro Salvini viene chiamato sollecitato e amato da vicepresidente del CSM e da Palamara vi sembra normale? il presidente della Repubblica può ancora stare silente su questa vicenda cioè quello va a processo e il CSM cosa fa? come possiamo dire ringrazia incentiva il magistrato che sta attaccando come loro volevano il ministro degli interni io la trovo una cosa enorme tutti gli altri giornali zitti e muti regioni al voto le regioni pensate poi l'altra grande cosa stupenda le regioni vogliono andare al voto va bene vogliono andare al voto e anche De Luca vuole andare al voto quest'estate allora voi mi dovete spiegare ma De Luca chiude la regione chiude Cabri chiude Positano chiude Napoli chiude Avellino chiude Benevento chiude Salerno perché c'ha paura del virus o perché vuol fare il fenomeno e vuole che si vada al voto quest'estate quando ancora lui sostiene che probabilmente ci sarà il virus cioè il virus per votare lui che in questo momento gode di grandi vantaggi nei sondaggi perché è lo sceriffo che piace alla gente si può votare ma invece per fare attività di altro tipo non ci si può assembrare come avverrebbe in un voto fantastico vabbè l'altra ultima storia non so se sia vera ma se è vera è anche questa clamorosa il sindaco di Fiumicino il marito di una parlamentare del PD molto importante viene criticato sul web da un cretino probabilmente come spesso avviene io sapete quante persone mi criticano dicendo speriamo che il coronavirus ti prenda e ti uccida insomma sono pieno di cliniche e alcuni di questi li denunci ma pochissimi devo dire soltanto quelli che veramente dicono delle cose false nei miei confronti beh cosa fa il sindaco di Fiumicino nei confronti di questo Leone da tastiera lo denuncia per diffamazione legittimo possibile ma la cosa incredibile è che dopo pochi giorni questo viene perquisito dalla guardia di finanza che gli sequestrano e li mettono sotto sopra casa io non so se faccio una denuncia a un'altra persona giorno dopo viene in tutto il casino che ci abbiamo viene perquisita a casa sua peraltro neanche me lo auguro però questo è il clima di un paese che ti sembra libero ma alcune volte ti sembra una barzelletta ricordatevi mettiamo tutto a terra come si dice e poi mettere a terra le 100 proposte di Colau che qualcuno metterà a terra non so se dice proprio mettere a terra mettere a terra sì una cosa di questo tipo ci vediamo dopo ciao